per noi come penne voi ragazzi siete una fonte inesauribile di idee e di energia per cui noi qua a porte aperte chi voglia venire quando si potrà perché per il momento è tutto sospeso per noi è un piacere perché ricordatevi che voi siete il futuro quindi non abbattetevi in questo momento ma anzi il tempo per stare a casa lo sfruttiamo per ragionare su idee future o per rendere migliori le restrizioni che avremo da qua ai prossimi mesi per noi aziende è importante che loro come sono già fonte di ispirazione continuino ad esserlo perché ragazzi usate questo momento per trasmetterci anche quelli che saranno i vostri bisogni quello che secondo voi si può costruire insieme domani perché è vero ci ha cambiato completamente il modo di vivere in questo momento questa situazione è difficile farlo però il motto è quello di dire usiamo questo tempo per creare qualcosa di nuovo e concentrarci sull'aspetto positivo nel mio piccolo caso e non vi dico perché anche per noi non è facile perché è un momento di ansia non sappiamo l'azienda quanto potrà resistere noi siamo un'azienda che comunque è partner di un'altra azienda in Germania che è molto più grossa e in questo momento anche se non ci sono restrizioni il lavoro sta diminuendo però ci siamo detti inutile recriminare iniziamo a studiare e vedere cosa possiamo fare di nuovo per tragrettarci in questo futuro un filo modificato e una cosa che sta venendo fuori è la sinergia ragazzi anche se a distanza noi sto vedendo che creare delle sinergie, rafforzarsi, unirsi serve quindi che venga a tenere il ponte, scuola, aziende è fondamentale infatti non posso far altro che ringraziarvi